Benvenuti, io sono Alice. Di guiderò nella compilazione dei modelli di emersione domestico e subordinato relativi al Decreto Rilancio 2020, contenente una norma volta a far emergere i rapporti di lavoro irregolari. Potranno fare domanda tutti i datori di lavoro italiani, comunitari ed extracomunitari che alla data di entrata in vigore del decreto intendono assumere o occupano irregolarmente lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale dall'8 marzo 2020, come risulta da rilievi fotodattiloscopici o da dichiarazione di presenza o da attestazioni provenienti da organismi pubblici. E il familiare straniero di un cittadino comunitario titolare di carta di soggiorno UE, ovvero il familiare di un cittadino straniero titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. La domanda consente di regolarizzare un solo lavoratore. Nel caso in cui il datore voglia regolarizzare la situazione di più lavoratori, dovrà dunque compilare per ognuno di essi una singola domanda. Vediamo le istruzioni per la compilazione del modello per il lavoro domestico. La compilazione del modulo è divisa in sezioni. La sezione 2 riguarda la dichiarazione del richiedente. La prima opzione di dichiarazione è riservata ai datori che occupavano e continuano a occupare irregolarmente, alla data di presentazione della domanda, un cittadino straniero alle proprie dipendenze. La seconda è invece dedicata ai datori che vogliono concludere un contratto di lavoro subordinato con il cittadino straniero. Clicca qui per far partire il video. La sezione 4 fa riferimento ai dati dell'ente richiedente. Tale sezione è però compilabile solo nel caso della tipologia richiedente persona giuridica. La sezione 5 è relativa ai dati del datore di lavoro o del rappresentante legale. In tale sezione è necessario quindi indicare i dati personali del datore di lavoro o persona fisica o del legale rappresentante dell'ente. In quest'ultimo caso è necessario specificare il codice fiscale del rappresentante legale. Clicca qui per far partire il video. La sezione 7 è dedicata ai recapiti del datore di lavoro per eventuali comunicazioni. In tale sezione è quindi necessario indicare i dati riguardanti l'indirizzo dove il datore di lavoro intende ricevere eventuali comunicazioni. La sezione 8 è dedicata ai dati del lavoratore. In tale sezione è necessario specificare la data di nascita del lavoratore nell'apposito campo. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore ai 16 anni compiuti con assolvimento dell'obbligo della frequenza scolastica di almeno 8 anni, comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o da altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il predetto documento da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Dovrà inoltre essere prodotta la documentazione attestante l'assenso dell'esercente la patria potestà all'espatrio del minore. La sezione 9 è sempre dedicata ai dati del lavoratore. In particolare, in tale sezione è necessario indicare i dati del documento di identità del lavoratore. Il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità deve essere esibito dallo straniero al momento della convocazione presso lo sportello unico per l'immigrazione. Attenzione! Al momento della compilazione della domanda è possibile indicare gli estremi di un documento scaduto, purché, al momento della convocazione presso lo sportello unico per l'immigrazione, il lavoratore sia munito di un documento valido. La sezione 10 fa riferimento ai recapiti del lavoratore per eventuali comunicazioni. In tale sezione è dunque necessario indicare l'indirizzo dove il lavoratore intende ricevere eventuali comunicazioni. Clicca qui per far partire il video. La sezione 12 è dedicata alla località di impiego del lavoratore. L'indicazione della località di impiego del lavoratore è necessaria ai fini dell'individuazione dello sportello unico provinciale competente al rilascio del nulla osta. Nell'ipotesi in cui il lavoratore sarà impiegato presso una pluralità di sedi di lavoro, bisogna indicare la sede dove si svolgerà l'attività prevalente. Clicca qui per far partire il video. La sezione 14 fa riferimento alle dichiarazioni del datore di lavoro. Le informazioni relative al reddito sono compilabili solo nel caso in cui nella sezione 11 siano stati scelti come tipologie di rapporto, collaboratore familiare o assistente ad altra persona non autosufficiente per patologia o handicap. Si precisa che il reddito minimo del datore per assunzione lavoratore domestico nel caso di persona fisica è pari a 20.000 euro in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto per settore di reddito. 27.000 euro in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Mentre nel caso di persona giuridica il reddito fisso è pari a 30.000 euro. Nella sezione 15, sempre relativa alle dichiarazioni del datore di lavoro ai fini della richiesta, è possibile selezionare la prima opzione di dichiarazione solo se nella sezione 11 si è selezionato Assistenza alla propria persona non autosufficiente per patologia o handicap. Selezionando tale opzione, vengono abilitati i campi della data di rilascio del certificato del medico. Nei casi di collaboratore familiare e assistente ad altra persona non autosufficiente per patologia o handicap, è invece possibile selezionare solamente la seconda dichiarazione. Nella sezione 16, è obbligatorio indicare i dati relativi agli estremi della marca da bollo telematica e alla data del pagamento. Infine, nell'ultima sezione, una volta inseriti tutti i dati nelle maschere precedentemente descritte, in caso di esito positivo, si può procedere all'invio della domanda selezionando la checkbox Conferma e, successivamente, il pulsante Invia. Per procedere con l'invio della domanda, è necessario fornire tutte le informazioni richieste nella stessa. In caso negativo, il programma segnalerà con opportuni messaggi esplicativi i campi non compilati o compilati con caratteri o formati che non rispettano i requisiti richiesti. Adesso puoi compilare la domanda. Ciao! La compilazione del modulo è divisa in sezioni. La sezione 2 riguarda la dichiarazione del richiedente. La prima opzione di dichiarazione è riservata ai datori che occupavano e continuano a occupare irregolarmente, alla data di presentazione della domanda, un cittadino straniero alle proprie dipendenze. La seconda è invece dedicata ai datori che vogliono concludere un contratto di lavoro subordinato con il cittadino straniero. Clicca qui per far partire il video. La sezione 4 è relativa ai dati del datore di lavoro o del rappresentante legale. In tale sezione è necessario quindi indicare i dati personali del datore di lavoro persona fisica o del legale rappresentante dell'ente. In quest'ultimo caso è necessario specificare il codice fiscale del rappresentante legale. Clicca qui per far partire il video. La sezione 6 è dedicata ai recapiti del datore di lavoro per eventuali comunicazioni. In tale sezione è quindi necessario indicare i dati riguardanti l'indirizzo dove il datore di lavoro intende ricevere eventuali comunicazioni. La sezione 7 è dedicata ai dati del lavoratore. In tale sezione è necessario specificare la data di nascita del lavoratore nell'apposito campo. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore ai 16 anni compiuti con assolvimento dell'obbligo della frequenza scolastica di almeno 8 anni, comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nel paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Dovrà inoltre essere prodotta la documentazione attestante l'assenso dell'esercente e la patria potestà all'espatrio del minore. La sezione 8 è sempre dedicata ai dati del lavoratore. In particolare, in tale sezione è necessario indicare i dati del documento d'identità del lavoratore. Il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità deve essere esibito dallo straniero al momento della convocazione presso lo sportello unico per l'immigrazione. La sezione 9 fa riferimento ai recapiti del lavoratore per eventuali comunicazioni. In tale sezione è dunque necessario indicare l'indirizzo dove il lavoratore intende ricevere eventuali comunicazioni. Clicca qui per far partire il video. La sezione 11 è dedicata alla località di impiego del lavoratore. L'indicazione della località di impiego del lavoratore è necessaria ai fini dell'individuazione dello sportello unico provinciale competente al rilascio del nulla osta. Nell'ipotesi in cui il lavoratore sarà impiegato presso una pluralità di sedi di lavoro, bisogna indicare la sede dove si svolgerà l'attività prevalente. La sezione 12 fa riferimento alla sistemazione alloggiativa del lavoratore. Inoltre, se l'allocazione è a carico del datore di lavoro, egli ha facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla ritribuzione mensile una somma massima pari a un terzo del suo importo netto. Selezionando dalla lista «In locazione a carico del datore» l'opzione «Sì» deve essere quindi compilata anche l'informazione «Decurtazione dallo stipendio». Scegliendo «Sì» dovrà essere indicato anche l'importo decurtato dallo stipendio nell'apposito campo. Clicca qui per far partire il video. Nella sezione 14 è obbligatorio indicare i dati relativi agli estremi della marca da bollo telematica e alla data del pagamento. Infine, nell'ultima sezione, una volta inseriti tutti i dati nelle maschere precedentemente descritte, in caso di esito positivo, si può procedere all'invio della domanda selezionando la checkbox «Conferma» e, successivamente, il pulsante «Invia». Per procedere con l'invio della domanda, è necessario fornire tutte le informazioni richieste nella stessa. In caso negativo, il programma segnalerà con opportuni messaggi esplicativi i campi non compilati o compilati con caratteri o formati che non rispettano i requisiti richiesti. Adesso puoi compilare la domanda. Ciao!